Il Gruppo La Piadineria è la più grande fast casual company in Italia. Nasce nel 1994 con la prima piadineria in via Solferino a Brescia e dopo 25 anni siamo riusciti ad ottenere oltre 230 punti vendita. Il Gruppo La Piadineria ha adottato SAP Business One nel 2012 e questa è stata non solo una scelta che si è rivelata vincente ma anche lungimirante perché la nostra azienda cresce a doppia cifra e aveva bisogno di uno strumento, di un gestionale affidabile che gestisse in maniera precisa un dato molto granulare. La scalabilità è legata all'efficienza e l'efficacia dell'informazione e avere la possibilità di avere un partner come Informetica che ci consenta di aiutarci nel risolvere i problemi del quotidiano per noi è un fattore strategico di successo. Grazie al nostro partner Informetica abbiamo studiato un flusso di gestione della merce all'interno del negozio che è completamente informatizzato, quindi ci basiamo attraverso delle piccole tecnologie che è un palmare integrato appunto con un programma integrato in SAP Business One, una bilancia industriale e un'etichettatrice, quindi andremo a gestire il punto vendita come se fosse un piccolo sito produttivo. SAP Business One è molto intuitivo, è molto semplice, è uno strumento che si impara velocemente ad utilizzare. Per noi è fondamentale avere al nostro fianco un partner come Informetica e SAP Business One che ci aiuti di volta in volta a cercare la soluzione più efficace e più efficiente per risolvere i nostri problemi. SAP Business One e Informetica sono tra gli alleati fondamentali per la sfida all'innovazione, alla crescita di Gruppo La Piedineria.